Buonasera e ben ritrovati con 7x7 la segna targata Alice Channel che come ogni venerdì ci racconterà le novità legate al mondo della logistica e dei trasporti. Al mio fianco l'immancabile direttore generale Alice, Marcello Di Caterina. Buonasera direttore. Buonasera Eleonora. Intanto ben ritrovato. Ben ritrovato a lei. Grazie. Vorrei sapere intanto che cosa preannuncia questa ripartenza ma oltretutto mi capita sempre di ascoltare durante il periodo estivo che proprio questa stagione, che ormai sta avvolgendo al termine, è la stagione migliore per poter rafforzare i rapporti. Anche lei è di questa opinione? Sicuramente l'estate dà l'opportunità a molti di poter condividere momenti insieme, serate, cene, momenti al mare, in montagna. Insomma, chi può sicuramente è un momento favorevole. Per quanto ci riguarda Alice, lei lo sa, noi non è che fermiamo le nostre attività, soprattutto perché il trasporto e la logistica durante il periodo proprio estivo è sicuramente nel peggior periodo per quanto riguarda lo stress delle attività che si devono fare. Quindi noi siamo rimasti sicuramente sul pezzo. Direttore, questa settimana sono giunte parecchie notizie proprio dalla Germania perché i diversi settori risultano ancora in una forte recessione, ma soprattutto le elezioni regionali hanno fatto sì che si notasse un rafforzamento della destra estrema. Ecco, secondo lei questa recessione con appunto questo cambio nella politica regionale della Germania può essere correlato? Ma io non confonderei due argomenti. La politica ha una sua strada e la parte legata invece alla capacità produttiva di un paese non è strettamente correlato ad un momento storico della politica che probabilmente mette un po' in difficoltà lo Stato tedesco, però questo non vuol dire che io non confonderei le due questioni, anche perché onestamente poi bisogna valutare con attenzione quelli che sono i temi politici. Mentre è diverso il fatto della capacità produttiva perché evidentemente segna un momento di continua crisi perché è una crisi che dalla Germania arriva un po' da lontano. Ma a proposito di questa crisi, secondo lei, visto che la Germania è uno dei nostri maggiori partner negli scambi commerciali, questa non ripresa dell'economia potrebbe incidere anche sul nostro paese? Assolutamente sì, potrebbe avere delle ripercussioni soprattutto per alcuni settori. Uno di questi è l'automotive perché la Germania produce auto, lo sappiamo, e pezzi di ricambio e tutto quanto. Quindi è evidente che l'Europa Unita deve ragionare in termini macroeconomici per evitare che singole crisi possano poi condizionare il risultato di tutti. Molte notizie invece arrivano anche per il Mondo Alis perché il gruppo Grimaldi ha aperto nuove rotte con la Turchia, c'è stata l'entrata di nuovi partner come la Transeo Group specializzata nei servizi digitali e lo Jack Italia apre a partnership con la società automobilistica coreana Kia. Ecco, questo dinamismo fa ben sperare per l'autunno in casa Alis? Assolutamente sì, questa è una risposta importante di come gli attori principali della nostra economia, che sono gli imprenditori italiani, hanno una visione sempre molto larga su quello che sono le crescite dei fatturati e soprattutto investono prima ancora che la politica si accorga delle nuove opportunità. Questo l'abbiamo sempre ripetuto e non è quello che l'EF sta citando, l'apertura delle linee per la Turchia da parte del gruppo Grimaldi, gli accordi che fa lo Jack e Transeo, che è un operatore tra l'altro polacco con il quale è associato ad Alis e sta investendo molto in Italia, ci fanno ben sperare sul fatto che questa capacità produttiva del nostro paese crescerà e dà la sempre maggiore occupazione ai nostri italiani. A proposito di occupazione, lo sa che l'Italia è tra le big per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Il 24% degli occupati ne fa già un utilizzo proprio pratico sul campo di lavoro e un'azienda su tre pensa ad investire. Dal suo osservatorio qual è l'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo anche nel mondo Alis? L'intelligenza artificiale nel mondo Alis per il momento ancora non è entrata in maniera particolarmente consistente. Ma c'è un'idea magari? C'è un'idea, molti imprenditori ci stanno lavorando, molti soci di Alis, però io rispetto ad un processo, ricordo all'epoca quando cominciamo ad avere i primi cellulari, se lo ricorderà, era molto piccola, io ero un po' più adulto, ma all'epoca pochi credevano all'evoluzione dei telefonini fino a quello che abbiamo ottenuto oggi. Quindi questo vuol dire che noi siamo all'inizio di un percorso che avremo tante cose da scoprire e sulle quali dover investire per poter garantire continuità e quotidianità alla nostra vita. E mi verrebbe anche da dire che l'Italia viene sempre considerata un paese vecchio, invece da questo punto di vista non ci possiamo considerare. Sorprendiamo, sorprendiamo. Allora adesso vorrei parlare con lei di sport, ma non sulle imprese degli open di tennis negli Stati Uniti, ma piuttosto sulle parolimpiadi, perché Alis è sempre stata attenta ai temi sociali, soprattutto del terzo settore. La ministra per la disabilità, Locatelli, ha detto che in Francia da questi atleti arriva un messaggio veramente positivo e di speranza per tutti. Ecco, lei crede che c'è una nuova attenzione su questi temi anche dal punto di vista dell'imprenditoria? Io credo proprio di sì. Ho seguito e sto seguendo le Paralimpiadi. La sera vedo che c'è grande attenzione anche del servizio pubblico e questo a me fa molto piacere, perché non hanno smesso un attimo di seguire questi atleti straordinari che con le loro disabilità riescono a raggiungere risultati strepitosi. Quindi bene che si fa, anche perché lo sport in generale, ma in modo particolare anche questo percorso delle Paralimpiadi, aiuta gli Stati ad essere sicuramente più propensi ad un messaggio di pace. Quindi c'è sempre bisogno di avere messaggi positivi. Credo che la ministra Locatelli stia facendo molto bene. Tra l'altro noi abbiamo grande stima e apprezziamo il lavoro che lei quotidianamente svolge. ha sempre seguito tanto la nostra associazione, Alice per il Sociale. Riteniamo che siano messaggi importanti che vadano nel percorso della continuità e ci auguriamo che possano essere sempre più frequenti. Molto bene, allora noi siamo giunti al termine e vi diciamo che ci troviamo il prossimo venerdì, sempre su Alice Channel, ore 21 con 7x7. Buona serata. Buona serata. Buona serata.